Ecco, intorno al braccino. Guarda la mamma, guarda la mamma. La stringerà un po', eh? Sì, è finito. Buona, buona mamma. Non piangere. È fatta. È fatta. È fatta. Sì, potete andare dal dottore. Grazie. Bene. Rimango io con questa bella signorina, eh? Sì. Fai la prova. Ciao, signorina. Dimmi un po', che cos'hai lì? Uno zaino. No, questo è un peluche. Uno zaino. No, è un peluche. Buongiorno. 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 Il film lo guardi per un po' da sola. Mamma e papà escono un attimo, sì? Bambina coraggiosa. Accordiamoci su un punto. Piangere lo si fa a casa. Qui restiamo positivi. Chiaro? Chiaro. Coraggio. Vedi? Lei sta bene? Ciao. Oh, no. Gli spariamo e li uccidiamo domani. Eh? Che facciamo? Uccidiamo i tumoracci. Sì. 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 Dai, testa a testa. Oh. Sul mio... Oh. Ora devi dormire. Avanti, avanti. Da brava. Ora basta. Sì.